Per lo più non ti accorgi dei momenti importanti della tua vita quando succedono. Capisci che erano importanti solo ripensandoci. Fanculo la cintura. Cosa facciamo? Ci serve un posto da queste parti. Un posto bello. Cazzarola. Per te una violazione di domicilio è volare bassi? Deve essere il padrone di casa. Possiamo piazzarci qui, con calma. James mi sembrava uno di cui avrei potuto innamorarmi, ma veramente... Stando con Alyssa incominciavo a sentire qualcosa. Come sei entrata? No, la prego. Lui ti avrebbe fatto del male. Che cazzo, Marty! Lo ho ammazzato io, lei non ha fatto niente. Porta! Di che sono stato io e ti salverai. Fermo, partia! James! Grazie. Grazie. Grazie.